buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo ariete state facendo dei piccoli errori che con il tempo potrebbero danneggiarvi toro rendetevi indipendenti dagli altri siate più voi stessi e datevi le occasioni giuste per dimostrare agli altri di valere gemelli non lasciatevi prendere da paure ingiustificate piuttosto assecondate queste novità in modo da capirle e trarre vantaggio da loro cancro possibilità che vi sentiate trascurati e isolati quasi come se il mondo non vi apprezzasse e non vi conoscesse leone pettegolezzi sul vostro conto oggi potreste avere un serio battibecco vergine se state pensando agli errori del passato fate in modo che questo non vi distragga dal vostro futuro bilancia in amore momenti di confusione una persona del toro sarà molto importante scorpione entusiasmo per una notizia inaspettata sagittario allegria e buon umore un invito interessante per la serata capricorno cercate di essere meno distratti in ciò che andate a fare la distrazione potrebbe causarvi qualche problema e complicarvi la vita acquario questo sarà un bellissimo giorno ottimismo amore e tanta allegria pesci fate del bene a qualcuno aiutandolo nelle vostre disponibilità questo è tutto a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo